Io so che i posti più ambiti al mondo per qualsiasi turista, nei primi cinque, tre sono in Italia, Venezia, Roma e Firenze. Io posso parlare per Firenze, dove abito io, che succede tutti i giorni che il cameriere che porta a tavolo, che l'è il conto, aumenta, aggiunge qualcosa. Ho personalmente intervenuto per salvare due giapponesi che non parlavano inglese, non capivano l'italiano, stavano per pagare 60 euro. Che cosa? Ma un bottiglia d'acqua, un panino, due biscotti in piazza Signoria. Quindi non è esclusiva a Roma e penso che anche questi posti sono un po' toccata e fuga. Uno viene, si fa le foto e dice ho speso tanti di quelli soldi e non ci ritorni. Ecco, ma Leopoldo però scusa, tu che sei un uomo esperto e hai girato il mondo da tutte le parti, non è bello? No, però io a New York ho un piccolo bar, l'Italian Coffee, ho chiesto l'Italian Coffee, 9 dollari. Sì, sì, anche io e lui. Ho detto che c'è un pezzo di taglia dentro. Sì, ma io non discuto perché adesso vedremo un luogo dove un hamburger famoso, tra tutti i giornali, 80 euro. Grazie.